Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche questo fine settimana contraddistinto dalle concomitanti festività di San Valentino e Carnevale il dispositivo dei controlli del territorio volti a monitorare il rispetto delle misure anti-Covid. In totale tra venerdì e domenica sono state controllate su tutta la provincia 2.027 persone e 297 attività commerciali 51 le sanzioni complessive. Cittadini trovati in strada durante il coprifuoco oppure senza dispositivi di protezione individuale o a consumare cibi e bevanti all'interno di bar queste le principali violazioni registrate e poi altre situazioni illecite tipicamente di interesse delle fiamme gialle come gioco d'azzardo, contrabbando di sigarette, contraffazione, spaccio di sostanze stupefacenti. Più in dettaglio nel quartiere Secondigliano nel corso di un controllo presso un internet point il secondo nucleo operativo metropolitano ha sequestrato una videoslot non collegata alla rete telematica sanzionando il titolare per la mancata affissione della tabella dei giochi oltre che per violazioni anti-Covid. Inoltre tra Sorrento, Saviano, Palma Campania, San Vitaliano e Sant'Antimo sono stati sanzionati 14 esercizi commerciali perché non esponevano all'ingresso dei locali indicazioni riportanti numero massimo di persone ammesse ad accedere contemporaneamente. A Capri sanzionati il titolare di una palestra più due persone disposta alla chiusura provvisoria. A Pozzuolo e Casolatore sanzionati tre bar perché alcuni avventuri non indossavano la mascherina o consumavano all'interno oltre l'orario consentito. Inoltre da evidenziare tra le situazioni illecite di diretta competenza delle fiamme gialle un intervento della compagnia di Pozzuoli che a Licola ha sequestrato in un'abitazione nel corso di una perquisizione ed iniziativa una borsa contenente 12 panetti di hashish per un totale di 1,2 kg. Sette involucri di cielo fanno il sottovuoto pari a quasi 100 grammi di cocaina, un bilancino, un taglierino e 1.135 euro in contanti. Tratti nel resto due responsabili nei cui confronti oggi si celebrerà il rito direttissimo. La compagnia di Giuliano in Campania a Mugnano di Napoli ha sequestrato 5,6 kg di TLE di contrabbando ad un cittadino di nazionalità italiana denunciato a piede libero. Infine la compagnia di Casanuovo di Napoli ha effettuato presso un deposito di somma vesuviana il sequestro di 3.520 costumi di carnevale privi del marchio C'è nei confronti di un cittadino di nazionalità italiana.